In Italia, dal 11 luglio 2015, a Rimini si sarà il più importante evento di magia di sempre. Il campionato del mondo di magia che decreterà il campione del mondo di questa arte meravigliosa. 150 concorrenti, 5.000 maghi, 500.000 spettatori live renderanno questo evento indimenticabile. Per la prima volta nella storia in Italia, il campionato del mondo di magia rappresenta l'eccellenza mondiale della prestigiazione, con artisti leggendari. Ci saranno spettacoli per il pubblico, ci saranno spettacoli per solo per i maghi, conferenze, verranno inventati di nuovi prestigi, spettacoli per i più piccoli e workshop sull'ecomagia. 144 ore di magia interrotte da vivere assolutamente insieme e molto di più. 14 ore di magia interrotte da vivere assolutamente insieme e molto di più. 14 ore di magia interrotte da vivere assolutamente insieme. 14 ore di magia interrotte da vivere assolutamente insieme e molto di più. 15 ore di magia interrotte da vivere assolutamente insieme e molto di più.